Ci eravamo lasciati al sedile Ococcio per questa raccolta fondi in favore di Patrizia Spinelli, la giovane che dovrà essere sottoposta a un delicato intervento chirurgico che dovrà eseguirsi in Germania. Ci troviamo adesso in questa bella piazza del Sacro Cuore, intitolata al sacerdote Aldo Caramagno e sono in compagnia di Antonio, di Patrizia e della mamma che vogliono in questo momento intanto ricordare e rassicurare tutte le persone, tutti coloro i quali si sono prestati per questa donazione e quindi ringraziarli e assicurare che la cifra che si era dovuta raccogliere è stata raggiunta. Allora Patrizia, come va? Allora innanzitutto grazie veramente a tutti, finalmente posso dire che siamo arrivati alla cifra. Sembrava quasi impossibile un mese e mezzo fa, forse un mese fa, ma veramente siamo grati a tutte le persone che si sono impegnate con tanti eventi privati, persone, a chiunque si sia impegnato per questa raccolta. Grazie, grazie infinite. Mi sembrava doveroso informarvi che eravamo arrivati alla cifra, che partiremo fra due giorni. Arriveremo in Germania il 22 e sarò operato il 24. Ovviamente tramite Antonio vi terremo informati. pregate per me e niente, grazie veramente di cuore infinito da parte mia, della mia famiglia, di tutte le persone che mi sostengono. Grazie ad Antonio per essersi speso tanto, grazie a Giovanni Ternullo per tutti i salvatanai, grazie ai commercianti, grazie infinito a tutti, veramente di cuore. Ricordiamo che la cifra iniziale da raccogliere era 70.000 euro, sono stati raggiunti, si attendono le ultime operazioni ma è certa che la cifra è quella. È una curiosità, sono stati raccolti dai salvatanai che sono per gli esercizi commerciali distribuiti tra gli esercizi commerciali di Augusta quasi 5.000 euro e questo è anche un dato importantissimo. Abbiamo sentito Patrizia, noi ci facciamo ovviamente tutti gli auguri che possa ritornare dalla Germania più forte di prima. Voglio ascoltare anche il parere della mamma che in qualche maniera da genitore quando si ha un problema con i figli è come se uno l'avesse proprio. Sì, è proprio così. Adesso aumenta l'ansia perché siamo arrivati all'obiettivo non solo economico ma anche di questa operazione. Cosa dire di più? Io devo ringraziare, a parte la parte economica che non è stata indifferente, ma veramente la vicinanza delle persone che mi hanno fatto sentire proprio il loro calore, il loro affetto, mi hanno sostenuto. Poi io ho avuto anche questo piccolo incidente, non vi nascondo che mi ha riempito di angoscia per il timore di non poter accompagnare mia figlia in Germania. E adesso come va? Adesso come una piazza in mezzo, va bene. Importante questo. Diciamo che la grande volontà, perché bisogna mettere volontà in queste cose, mi ha permesso di rimettermi in piedi. Con le giuste cautele però, ecco, ci siamo riusciti anche in questo. Sono fiduciosa, so che tanta gente pregherà per noi e questo mi dà forza, essendo una cristiana praticante. E che dire, ringrazio veramente tutti, tutti, tutti. Non mi metto a fare nomi perché possibilmente poi dimenticherai qualcuno e qualcuno ci può anche rimanere. È meglio non dire nomi, in generale. Esatto, quindi in generale veramente tutti, tutti e non sono pochi. Non sono poche le persone che veramente si sono spese per noi. Quindi grazie. Questo è un giorno quindi importante. Aspettiamo questo viaggio della speranza per Patrizia. E oltre ad essere un giorno importante per Patrizia Spinelli, è anche un giorno importante per Antonio Caruso. Perché ce lo spiega lui stesso? Eh sì, perché oggi, 16 gennaio 2024, Maria Patrizia Cominonda, mia moglie, avrebbe fatto 59 anni. E noi proprio l'anno scorso, il 16 gennaio 2023, abbiamo aperto la raccolta fondi di Federico e Gabriele con la famiglia Salemi. E in un anno, oggi, chiudiamo questa raccolta fondi di Patrizia Spinelli con vera gioia, con vera emozione, con tanto amore da parte della comunità augustana che, come sempre, ha dimostrato di essere presente quando c'è bisogno. E quindi dire che in un anno, gennaio 2023, gennaio 2024, la città di Augusta ha dato in donazione 170.000 euro, vuol dire che siamo una grande realtà comunitaria. Questo dobbiamo dirlo ad alta voce. Grazie davvero di cuore a tutti. Per me è un giorno particolare, questo è vero. Lo sento proprio nell'anima. Ma va bene così perché, anche se non sono presenti, le persone più con noi ci fanno capire che sono sempre accanto e questa è una cosa importante. Faccio un ringraziamento particolare a tutte quelle persone che davvero si sono prodicate per questa raccolta fondi. In silenzio, con tanto amore, tanta dedizione, tutte le associazioni, i club e service, Giovanni Ternullo che ha ringraziato Patrizia, ringrazio anche Carmen Fruciano che in due, tre minuti ha fatto un evento così insieme a tante altre persone. Quelle persone che mi fermavano in mezzo alla strada e mi dicevano come potevano donare e dare un loro gesto d'amore per la Patrizia Spinelli, per la famiglia Spinelli e tutti quanti. Quindi grazie, grazie, grazie. Questo ci fa ben sperare per il futuro. Ancora una volta non abbiamo avuto dubbi sulla generosità degli augustani che hanno risposto prontamente anche in questa occasione. Noi da parte nostra, anche dalla redazione di Webmart, facciamo tanti auguri per questo intervento e poi ci risentiamo e ci rivediamo magari alla fine per vedere come è andato. Grazie, grazie infinite di nuovo a tutti. Grazie, grazie.